Dopo gli accadimenti giudiziari che hanno visto protagonisti e amministratori della città di Agropoli, i consiglieri comunali Agostino Abate, Giuseppina Botticchio e Consolato Natalino Caccamo scrivono una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Comunale di Agropoli, al sindaco del Comune di Agropoli e al prefetto di Salerno. Nella lettera si legge, nel prendere atto e conoscenza dei recenti accadimenti giudiziari che hanno coinvolto l'attività amministrativa svolta dal sindaco Adamo Coppola e che sono stati legittimamente portati a conoscenza dei cittadini sia da parte della stampa locale che da parte della stampa nazionale, esprimono la loro più seria preoccupazione per la giusta continuazione dell'attività amministrativa dell'ente, i sottoscritti consiglieri comunali Agostino Abate, Giuseppina Botticchio e Consolato Natalino Caccamo, comprendendo l'amarezza e il disorientamento che in queste ore possono palesarsi all'attenzione di tutti i cittadini di Agropoli e pur volendo rispettare il principio dell'innocenza che, dovuto a coloro che sono interessati da così evidenti azioni giudiziarie in atto e da divenire, riteniamo opportuno, doveroso e prudente chiedere alla signoria vostra di inserire all'ordine del giorno della prossima seduta consigliare, peraltro già fissata per il 21 mese di maggio, la seguente mozione che riguarda la richiesta di dimissioni del sindaco o, in alternativa, la richiesta di autosospensione dalla sua funzione per un periodo utile al completamento delle indagini giudiziarie in corso. Il tenore della mozione è il seguente. Le indagini in corso, che hanno interessato l'attuale sindaco di Agropoli, dottor Adamo Coppola, che segue alla carica di sindaco del dottor Francesco Alfieri, pur esso investito dalla stessa indagine giudiziaria, hanno portato alla cronaca nazionale un consistente dubbio di liceità sull'attività amministrativa del comune di Agropoli che interessa un cospicuo numero di anni. Tale continuativa presunta malagestio nell'amministrazione dell'ente, unitamente al sospetto del presunto voto di scambio politico mafioso, ha già comportato un danno di immagine per l'intera comunità e ha di fatto segnato il territorio e di conseguenza la sua comunità come territorio riconoscente ad un sistema politico mafioso, cosa che senza dubbio ci auguriamo tutti non sia vera. Noi stessi, consiglieri comunali proponenti la presente mozione, riconosciamo sempre applicabile il principio dell'innocenza fino alla conclusione dell'ultimo grado di giudizio e della chiusura delle indagini in modo favorevole all'indagato e quindi con questa stessa mozione non intendiamo esprimere alcun sentimento negativo nei confronti del sindaco ed anzi gli auguriamo una rapida e positiva conclusione a suo totale favore. Riteniamo però che occorra sdoganare subito e senza indugi Agropoli e il Cilento da questo laccio mediatico e lasciare alla magistratura ogni altra legittima azione nella continuazione e chiusura delle indagini, evitando che si possa pensare che nel frattempo l'ente continui ad essere amministrato da tale teorizzato sistema. Per tutte le motivazioni espresse riteniamo doveroso nonché opportuno che il sindaco dottor Adamo Coppola rassegni le sue dimissioni o quantomeno proceda da subito ad autosospendersi da ogni funzione. Al momento stante la gravità delle indagini in corso, anche l'efficacia della funzione di controllo del Consiglio Comunale risulta quantomeno compromessa e pertanto anche nella ferma convinzione di tutelare l'intero consesso insistiamo per l'inserimento all'ordine del giorno di quanto richiesto. La presente viene trasmessa al prefetto di Salerno per sua opportuna conoscenza e alla stampa per la sua doverosa divulgazione.